Grazie 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 Niente, non blocca il suo dito. Su le unghie adesso. Ora si fa sulle nocchie. C'è le mani un vivo. Apprende le dita! Sei così! Esci con la gamba, non di spada. No, sei dentro con la testa. Dopo lancia la testa in piedi. No, lega. Non ti puoi voltare mentre il palleggio. Falla a prescindere questo. Sono solo dita, Leo. Qui ci sono soltanto la mano destra. Gira bene i palmi. Ok. Vorrei che vieni stretto proprio. No, non ci sono i palmi. Broccate con le dita. Non ce la devi pizzicare. Devi trattenere. Apprezzare la partezzata della schiena. Non andate neppure con la testa. È fanno. Non è neppure preparate. No, non ci sono anche lì. Ok. No, non è neppure. Da quella ruota devi trattarla a te. Come ha fatto adesso Stan Zani in perfezione. se prendi la testa viene tutto più facile no, i pollici sono a cazzo no, non ci sono a cazzo altra ciao la pasta è riuscita a pizzicare anche la pasta però potete non lo può fare eh, Leo, basta eh ho fatto serie no, la testa è dietro ti esplori balleggiando non fai un cazzo eh, eh già bene bravo bravo fermo quando balleggi i pollici sono sigillati ok dai usa le gambe madonna questa è proprio tecnica alzata a fresa in bagno guarda, applicata al balleggio no, per il trasmentario di bagno non ci sono mai imparato vedi che si fa spiegare sono i cazzo questa è la cazzo limbo del asino nido è la cazzo è già progressivo è un medico con la schiena guarda allora, non voglio essere la seconda legame più veloce eh perché è voluto perdereci tutto il volo? ma è un po' ma è un po' ma è un po' ma non c'è il tutto bene niente è un po' con due dita e un bambino e pure anche il palmo e basta fare con i contatti nel puntitino guarda sul palmo 3 questo è un progresso stai fermo con la schiena e ci serve occhio stanza di cuore sullo pollice non andare indietro stana c'è una mantina della messa meno trattenute qua ora eh non basta guardi la gambe e braccia ma non portateci basta la palla no voglio che prendi la palla con i palmi non così posizione posizione prima le mani sono resta all'ultimo posizione prima le mani sono resta all'ultimo posizione prima le mani ora ci sono le gambe e niente stai dritto questi sono soldi ora va bene guarda si è andato con la testa quelle sono pollice indice e medico di testa questo è la efficacia ok stai dritto ma lei è difficile ma lei è un po' di muovo no sotto il metro devo mostrare i pollici schiena mano chiusa e mano aperta occhio stanziali è bloccato con i pollici le gambe no c'è i pollici sono diversi abbiamo fatto a perdere quelle dita anche la sotto il petto è così leo tuve basta stanziali 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 fuori dal campo mi sembra sta bene questo sono solo pollici addirittura è campato con la nocca del pollice questo è molto bello non è approssa da un piccolo una mano aperta una mano aperta una mano aperta una mano aperta con la scena questo va molto bene stanziali se ne riuscivi pulito era anche fatto bello e no le braccia basse le braccia scendono con la palla le stendi tanto prendi la protezione questo è questo le stendi tanto prendi la protezione per fare questo le stendi tanto per fare questo questo è vasto perché non ci sono le gambe queste sono soltanto dita questo è già meglio mai aperto la gamba di dietro come i cani questi sono piedi uniti questa non c'è il potenzialamento delle braccia di nuovo solo pollici bloccala questo è un problema ma saldi verso il giocato questo è un pollice indice per i due macchioni questo è troppo rattenuto proprio il movimento non va bene questo è stato dato di nuovo all'indietro con la testa indietro di nuovo pollice indice ho aggiunto il tene suono bassa le gambe solo schiena bassa non ci sono le gambe tutte spette d'orzale questo va bene meglio questo è un pollice indice per i due macchioni mettici il pallone con chi deve cascare addosso il tuo albone non deve fare la go perché ci sono le gambe dentro di schiena questo è perfetto questo è perfetto questo è basso ma la tecnica è sicuro di filare di colore questa è una testa no le gambe non sono qui ci sono no troppo contro rende bassi no 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 non ci sono le gambe mi è remunzato mi è remunzato ma adesso faccio non esistirlo 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 grazie basta avrebbero occhio costo la polizia no non spenzi in movimento fluido ora non riparsi No, ma è solo il po' di sinistra e niente gambe Perfetto No, ma è stato la gamba E' stato fuori qui Falzai le gambe, porca puttana Ok Ok No, tira il calcio 3 punti Grazie Più gambe Stanzai No, ne ho preso quello di te la mano destra Posiziono bene le gambe Spingi con la gamba, non ti ha la canestra Non ci sono le gambe senza di schiena, salta anche all'indietro Stanzai non sei preparato, non serve un calcio Stai cascando in avanti Finisci con le braccia spesa davanti a chi per dare il proiettore Tutto pollici destro Solo dita, non serve un calcio Porgici e le gambe allerta dietro Stanzai il fluido movimento con la gamba in preparazione No, sono spingi con la testa Eh, se non le gambe è proprio spaggio La ruba è bella Ok, tiro che la stagione Stanzai il fluido movimento con la gamba in preparazione